Non voglio lavorare qui, non devo essere costretta ad andare all'Inva, non devo essere costretta ad andare all'Eni e non devo essere nemmeno costretta a studiare da un'altra parte, perché chi ha deciso che Taranto dovesse diventare un puro industriale, chi ha deciso che gli studenti e le sue stesse a Taranto non dovessero rimanere una volta dopo il liceo o dopo le superiori. Questo è fondamentale anche per i bambini e le bambine delle scuole elementari e medie che si sono visti o esiste un'ordinanza che gli nega di andare a scuola, perché l'ambiente e l'aria è troppo inquinato. Ci dicono di chiudere le finestre, di tapparci in casa, di non uscire quando c'è il vento che porta tutti i fumi tossici alla città. Ci dicono che così saremo più sicuri e più sicure. Cos'è la vera sicurezza per loro? La vera sicurezza è data dagli studenti e dalle studentesse che attraversano le città e che lottano per viverle. Grazie.